Due persone sono state arrestate questa mattina dai carabinieri della compagnia di Pescara per una doppia rapina all'Eurospin nel quartiere San Donato. In manette sono finiti Luca Fragasso, 42 anni, e Betti e Leonora, di 27, entrambi pescaresi. Con precedenti due devono rispondere dei reati di rapina aggravata, tentata rapina, colpi di pistola esplosi in luogo pubblico, evasione dai domiciliari e ricettazione di arma da fuoco e motorino. I due, secondo la ricostruzione dei carabinieri, hanno prima tentato di rapinare un supermercato in via Lago di Campotosto alle 7.15, trovando però la pronta risposta del direttore che si è chiuso nel negozio, impedendo ai due di entrare. I rapinatori, irritati per tutta risposta, hanno esploso almeno un colpo di pistola verso il supermercato. Poi alle 7.30 la coppia si è recata all'Eurospin di via Aldomoro ed una volta all'interno è riuscita ad immobilizzare il direttore ed un dipendente, riuscendo ad impossessarsi di contanti per un valore di oltre 1.200 euro. Le immediate indagini hanno permesso di risalire ai due rapinatori, grazie anche alla visione delle immagini a circuito chiuso. Il 42enne e la convivente avevano in casa i soldi, le pistole utilizzate per la rapina e i caschi indossati. I due erano stati già arrestati lo scorso 21 giugno per droga e ironia della sorte. La notte scorsa alle 3 per evasione dai domiciliari. Sì, gli autori della rapina all'Eurospin in realtà avevano già consumato in precedenza un'altra rapina, solamente tentata. In questo secondo caso le pistole erano due e nel corso dell'indagine abbiamo recuperato anche la seconda pistola. Una delle due rapine era una pistola vera denunciata oggetto di smarrimento, mentre l'altra invece era una pistola giocattolo utilizzata. Nel corso di una delle due rapine è stato esploso anche un colpo. Sono in corso ascertamenti per vedere se la rapina, se il colpo esploso era quello con l'arma giocattolo, una scacciacani o con la pistola vera. Gli stessi erano stati già arrestati da noi in precedenza il 21 giugno per droga e la notte scorsa avevano commesso il reato di evasione e quindi erano stati arrestati e riposti ai domiciliari. Gli stessi erano stati